Ma LinkedIn si integra con il mio CRM oppure no? E se si integra quanto costa questo servizio? Visto che sull'argomento c'è parecchia confusione, cerchiamo di fare chiarezza nell'episodio di oggi. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le imprese che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Se vuoi continuare ad ascoltare contenuti fatti apposta per chi lavora in azienda, allora ti consiglio di premere subito il subscribe per non perderti nessuna delle nuove puntate. Come dicevo un attimo fa, parliamo di LinkedIn e di integrazione fra LinkedIn e il CRM. Perché ne parliamo? Perché semplicemente è una cosa che alle aziende interessa moltissimo. Infatti l'integrazione tra LinkedIn e il CRM aziendale permette di riportare dati che sarebbe comodo impiegare in uno strumento aziendale come il CRM. Immaginate con un click di poter portare dentro il CRM aziendale nomi, cognomi, ruoli, siti web senza doverli ricopiare a mano. Sempre corretti, sempre aggiornati. Già, questo sarebbe un vantaggio incredibile ma non è l'unico. Su LinkedIn ci sono oltre 700 milioni di contatti e fra questi ci saranno sicuramente una marea di prospect pronti per essere trasformati in clienti. Ora non è questo il video dove vi spiego come mai LinkedIn sia uno dei posti migliori dove fare lead generation, ma è indubbio che un'azienda un minimo strutturata voglia avere evidenza dei frutti di queste azioni non in giro per il web ma nel suo CRM. Quindi è normale che ci sia interesse per poter usare LinkedIn come se fosse una estensione del proprio Customer Relationship Management Software. Ma una integrazione fra LinkedIn e il CRM risulterebbe formidabile anche nell'attività di pulizia e aggiornamento delle anagrafiche del CRM. Immaginate un attimo che bello sarebbe se potessimo essere aiutati da LinkedIn con un click a mantenere le nostre anagrafiche perfettamente corrispondenti con la realtà perché di fatto LinkedIn è un fantastico database in cui i costi di aggiornamento sono sostenuti da tutti quelli che aggiornano il proprio profilo e se potessimo validare i dati appena con un click quanto lavoro in meno faremmo e quante opportunità in più potremmo cogliere. Immaginate ad esempio un cambio di ruolo chiave presso un vostro cliente. Immaginate che vada in pensione una persona con cui avete lavorato una vita o c'è un cambio di lavoro e il vostro interlocutore viene promosso e qualcuno prende il suo posto. È obiettivamente un momento delicato del vostro rapporto con quel cliente e dovete essere presenti se non volete rischiare di essere scalzati da un concorrente perché un conto è scoprire che c'è stato un cambio mesi dopo quando si telefona e un conto è scoprirlo mentre avviene, nel momento stesso in cui il cambio avviene. Una volta compresa l'importanza di questo tipo di integrazioni mi tocca darvi però una brutta notizia. Non esiste alcuna integrazione ufficiale fra LinkedIn e qualunque CRM. Già, l'unica integrazione possibile fra CRM e LinkedIn riguarda solo Sales Navigator, quindi non i profili normali, quelli a pagamento e in particolare Sales Navigator. Anche se a onor del vero esistono sistemi per poter in qualche modo importare alcuni dati su vari CRM, sono però strumenti di terze parti di cui parleremo fra un attimo. Quindi mettete un attimo da parte questo argomento. Quindi chiarito che non è LinkedIn a integrarsi con i CRM, ma è LinkedIn Sales Navigator che grazie ad un widget apposito permette di consultare i dati di LinkedIn mentre si sta facendo attività di vendita, questa funzione permette di risparmiare un sacco di tempo sincronizzando e importando i dati da un sistema all'altro, convalidando i dati, verificando la qualità di inserimento dei dati e migliorando l'affidabilità delle informazioni, è chiaro che sia un vantaggio competitivo. Ma soprattutto si rende l'azienda capace di gestire centralmente tutte queste informazioni. Ecco perché alle aziende piace molto questa cosa. Cosa voglio dire? Non mi riferisco al fatto che l'azienda controlli e si archivi i dati dei vostri contatti appena quello. Mi riferisco al fatto che l'azienda in un ambiente proprietario come il CRM abbia anche copia di tutte le interazioni tra voi e i contatti. Ad esempio le task da fare vengono replicate tra CRM e LinkedIn, i lead, eccetera. Perché? Perché non sempre il commerciale è la persona che poi interagisce magari sui social e ci sono delle cose che, se archiviate, possono essere utili anche ad altre funzioni aziendali. Quindi non è appena una questione di controllo, è una questione di efficacia. C'è da dire che LinkedIn Sales Navigator non si integra con tutti i CRM, ma solo con quelli che chiama Snap, cioè i partner del Sales Navigator Application Platform Program. Su LinkedIn c'è una bella pagina con un bel form da compilare per diventare partner, anche se da tempo ormai in memoria i CRM federati sono più o meno sempre gli stessi. In particolare sono Salesforce, SugarCRM, HubSpot, Microsoft, Oracle, SAP e Pega, uno dei CRM più cari ma anche più interessanti che ci siano sul mercato. E anche fra questi partner non tutti risultano essere uguali. Alcune funzionalità sono disponibili solo per alcuni di questi, in particolare sono quasi sempre disponibili per Salesforce. Tanto per farvi un esempio, la funzione di creazione automatica a contatti dal CRM a LinkedIn Sales Navigator è limitata alla versione Enterprise Edition, ma è disponibile solo per Salesforce. Solo per Microsoft Dynamics 365 è una funzione in preparazione, ma non si specifica quando sarà pronta. Stesso dicasi per il plugin dal nome eloquente, LinkedIn Sales Navigator CRM Sync. Ma che cos'è questo plugin? È un sistema che permette di accoppiare automaticamente i contatti, le persone e le aziende su LinkedIn con i dati che abbiamo nel nostro CRM aziendale riguardanti i lead, le opportunità, quindi i deal commerciali, eccetera. Sebbene ad oggi questa funzione abbia delle limitazioni, possiede comunque una utilità innegabile. Bene, anche questa soluzione non è proprio per tutti quelli che hanno LinkedIn Sales Navigator, ma solo per chi ha la versione Team o la versione Enterprise. In realtà l'integrazione fra LinkedIn e il CRM è di fatto un territorio di frontiera su cui è consigliabile fare delle verifiche prima di iniziare ad investire, magari sentendo un commerciale di LinkedIn e verificando la vostra configurazione, il vostro setup, quello che avete e soprattutto quello che volete fare. Vi faccio un esempio perché c'è un po' di confusione. Nell'elenco dei partner Snap sul sito di LinkedIn ci sono alcuni nomi. Se andate nell'FAQ sempre di LinkedIn i nomi cambiano e fra questi c'è ad esempio ZOO. Ora, se andate sul sito di ZOO, ZOO menziona un'integrazione corposa con LinkedIn. Bene, ma qual è la verità? C'è o non c'è? È affidabile o no questa integrazione? ZOO è veramente un buon CRM, molto diffuso in Italia come entry lever per tantissime PMI e quindi sarebbe interessante sapere se questo strumento è pienamente integrato o no e fino a che livello è integrato. Ecco, sono tutte verifiche da fare con un commerciale di volta in volta e puntualmente. Ora però resta un altro aspetto da analizzare, un ultimo aspetto da analizzare. Cosa fare se la mia azienda non impiega nessuno dei CRM presenti nella lista dei partner Snap oppure se non ha intenzione alcuna di investire sul Sales Navigator. Qui la questione si complica parecchio perché non ci sono molte opportunità. Se l'azienda ha scelto un CRM che non è fra i partner Snap, l'unica opzione che le rimane è quella di utilizzare una integrazione di terze parti o un servizio di automazione che fa scraping di fatto di dati e li rende importabili, molte volte attraverso un Excel, un file comma separated nel CRM aziendale. Questa scelta è da ponderare molto bene perché LinkedIn non ha mai fatto questi servizi. Anzi, quasi sempre essi violano le clausole contrattuali che avete sottoscritto ed essendo osteggiati dalla piattaforma, spesso smettono di funzionare per lunghi periodi senza alcun preavviso. Sinceramente non credo di poter consigliare nulla formalmente. Comprendo che l'unica cosa che si può suggerire in questi casi è di essere molto cauti, di affidarsi a degli esperti e di valutare insieme a loro quanto e quando vale la pena di implementare certe automazioni. Bene, siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi. Gli appunti sono sempre al solito posto che ti aspettano. Merita.biz barra 254 Ovviamente se vuoi imparare ad usare meglio LinkedIn per innescare conversazioni interessanti con i buyer e riempire il CRM aziendale di appuntamenti per i tuoi venditori, ti consiglio di visitare la pagina del programma di Digital Selling che trovi fra i servizi nel menu nel mio sito web. È un programma dedicato alle aziende che vogliono generare opportunità di vendita grazie al digitale e va ben oltre il solo utilizzo di LinkedIn. Quindi dacci un'occhiata perché potrebbe interessarti. Ricordo inoltre il gruppo Telegram, telegram.me barra MeritaBiz che è il luogo in cui la discussione continua al di là degli episodi settimanali del podcast. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao! 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 Ciao!